ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata oggi vorrei parlarvi del nuovo omega speed master con calibro 321 in questo video faremo un'analisi di questo orologio che è stato appena presentato e poi ci saranno anche delle speculazioni per quanto riguarda il futuro di questo famosissimo orologio cominciamo subito con parlando vi voglio cominciare iniziare questo vlog partendo dal 2006 per questo darvi un'idea di quello che sono stati anche i prezzi di questo di questo orologio negli ultimi 15 anni ecco nel 2006 il prezzo di listino di un omega speed master con movimento 1861 che praticamente è lo stesso orologio che si può comprare anche in questo in questo momento si trovava ad un listino di 2300 euro in più c'erano degli sconti naturalmente per cui si portava a casa nel 2006 badate bene con 1800 euro per cui capite bene che nel 2006 secondo me dal mio punto di vista questo qui era un grossissimo affare al giorno d'oggi un orologio come questo esattamente uguale c'è lo stesso identico orologio a parte alcune differenze ma che sono veramente minime il calibro è il 1861 rimane a un listino di 4800 euro per cui siamo nel 2020 dopo 14 dopo 14 anni è più che è più che raddoppiato ecco questo è la la figura ecco la situazione attuale dello dello speed master con movimento 1861 l'altro anno è stato in serie limitata è stato è uscito un uno speed master con un nuovo movimento il 3861 allora questo questo movimento a aveva a è uscito in serie limitata e aveva il lo scappamento quassiale aveva la molla di ricarica in silicio e aveva la certificazione questo gli dava la possibilità di avere la certificazione metas era comunque sia un orologio manuale rimaneva comunque sia un orologio che pur avendo tantissime modifiche subito tantissime modifiche rispetto al calibro 1861 di fatto rimaneva come base stiamo parlando come base un le mania e le mania appunto è il calibro degli anni 40 al quale che è la base proprio di tutti gli gli speed master e 3 2 1 il 8 6 1 1861 e poi andando avanti ecco il 3861 l'altro anno era l'ultimo forse anche oggi è l'ultimo calibro che è stato montato di nuova generazione che è stato montato su uno speed master ecco la certificazione metas è una certificazione abbastanza molto restrittiva ecco ancora di più di cos che per cui assolutamente significa che questo orologio ha delle performance veramente alte dov'è il limite che io che io vedo di questo movimento beh il fatto che questo movimento non abbia la ruota a colonne in pratica questo a questo movimento è stato lasciato lo smistamento a cam e leve per cui un sistema che nel passato era stato modificato quando lo speed master uscì uscì con il calibro 3 2 1 che aveva la ruota a colonna poi nel passare degli anni fu superato appunto il calibro 3 2 1 si passò a un altro a una variante togliendo togliendo il la ruota a colonna e passando a uno smistamento a cam e leve ora in quel momento aveva un senso perché la tecnologia che era a disposizione in quel momento lì permetteva di risparmiare tantissimo in termini di soldi passando da uno smistamento a ruota a colonna a uno a cam e leve per cui c'era proprio un vantaggio economico oggi con le tecnologie che ci sono oggi la differenza tra questi due sistemi è veramente minima certo rimane pur tuttavia più caro produrre una ruota a colonne naturalmente ma non c'è più quella differenza non è una differenza così drammatica tra i due tra i due costi per cui oggi si auspicherebbe il ritorno di questo sistema il ritorno a una ruota a colonne proprio perché è un sistema migliore da proprio da un punto di vista dell'utilizzo no proprio la sensazione che si ha utilizzando questo sistema è assolutamente migliore non c'è da dirci non c'è da dirci nulla non è che l'altro non funzioni non è che l'altro sia meno affidabile assolutamente no anche lo smistamento a cam e leve è un sistema assolutamente affidabile ma non ha quel feeling non ha quelle non ti regala quelle sensazioni che ti regala la ruota a colonna per cui in un mondo come questo in un mondo di oggi il ritorno alla ruota a colonna è nell'altra orologeria a mio avviso un qualcosa di assolutamente una condizio sine qua non se una un orologio vuole essere nella se vuole stare nella fascia nella fascia alta ecco non c'è solo il non c'è solo quella non c'è solo quel vantaggio al punto di vista della della sensazioni ma è anche un è anche un piacere la vederlo ecco nell'alto orologeria ricordiamoci sempre che parliamo di arte parliamo di di un piacere anche visivo ecco qui parliamo di un orologio che ha un fondello a vista parliamo di un orologio che espone un calibro che appunto di derivazione 3 2 1 che è uno spettacolo è il calibro più bello e calibro più equilibrato è il calibro più vezzeggiato è il calibro nella fascia media più bello che c'è oggi non ci sono altri calibri che siano che abbiano quella bellezza in quelle in quel in quella fascia nella fascia appunto media certo ci sono calibri ancora più belli e nel passato ci sono stati dei longines che erano ancora più belli del calibro 3 2 1 ma purtroppo questi calibri non sono più in non sono più in produzione per cui questa è un po la fotografia che c'era l'altro anno ecco quest'anno è c'è stata appunto la notizia entrato in in commercio il una è stata fatta un'operazione particolare forse un'operazione che non si era non si era mai vista un un ritorno e sicuramente questo questa è una cosa che io apprezzo apprezzo in maniera particolare proprio perché la omega ha deciso di reintrodurre il calibro 3 2 1 oggi naturalmente per il per reintrodurre un calibro 3 2 1 c'è bisogno di una degli investimenti che sono l'ingegnerizzazione ovvero quello di costruire delle linee di montaggio delle dei macchinari per cui investimenti importanti per poter rendere questo questo calibro che è sì di origine di proprietà di omega perché perché la le mania era stata comprata da omega per cui il gruppo era quello aveva tutti i progetti già fatti certo da questo punto di vista sicuramente omega è stata avvantaggiata ma purtuttavia ha dovuto fare degli investimenti importanti che sono sicuramente degli investimenti da apprezzare bisogna dare merito a omega di avere portato avanti questa operazione un'operazione molto coraggiosa perché perché tornare al calibro come ha fatto al calibro 3 2 1 e per il momento ha lasciato in commercio anche il calibro 1861 per cui ha introdotto una nuova linea che questa volta non è in serie limitata per cui un altro coraggio ecco non è in serie limitata ma comunque sappiamo che la produzione di questi orologi saranno sarà comunque anche se non ci sarà una serie limitata ma sarà comunque limitata to cure sarà comunque limitata avrà dei numeri abbastanza ristretti ecco qua parliamo di un orologio che è di 40 mm come diametro alove il vetro zafiro il fondello a vista naturalmente per far vedere quel bellissimo calibro che ha e 55 ore di riserva di carica a è naturalmente manuale ecco oggi giorno dal mio punto di vista proprio per poter godere della della visione di determinati calibri calibri di questa fattura di questa bellezza avere un innesto avere un avere il fondello a vista è sicuramente un qualcosa di apprezzabile qualcosa sicuramente di di bello no per cui ai 50 metri di resistenza all'impermeabilità un qualcosa che non mi piace tantissimo ovvero una patina falsa sulla luminescenza dell'orologio non mi piace molto avrei preferito che fosse una luminescenza nuova ecco che non scimmiottasse insomma un orologio un orologio vintage ma al di là di quello è sicuramente un un bello orologio un qualcosa di veramente da da apprezzare un movimento che io sposo in tutto e per tutto non ultimo questo è un movimento che si fatto riprende esattamente uguale al 321 ma è anche un movimento lavorato ora lavorato non è che è lavorato a mano non ci sarebbero gli spazi qua ci sono comunque sia dei numeri importanti non sarebbe possibile poterlo lavorare a mano ma è lavorato a delle delle lavorazioni fatte a macchina per cui comunque sia il movimento è un bel movimento anche proprio non solo come architettura e quello lo è sempre stato ma anche come rifinitura seppur parliamo di rifiniture sempre industriali cioè sempre fatte da da macchine ma dobbiamo appunto prendere prendere quello che quello che c'è quello quello che c'è è veramente un qualcosa di bello questo è il movimento più bello che c'è nella fascia che c'è nella fascia media oggi in oggi in produzione molti di voi mi diranno mi parleranno appunto del del primero anche quello è un ottimo calibro è un calibro ad alta frequenza un calibro che ha l'innesto laterale un calibro che ha la ruota a colonne per cui un calibro completo problema del 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 primero il motivo per il quale non arriva alla ricercatezza dell'omega speedmaster con calibro 321 risale proprio al momento al momento in cui fu prodotto ovvero nel 69 guardate bene nel primero grosso modo è lo stesso calibro non ha subito grandissime veramente piccolissime modifiche in tutti questi anni per cui dal 69 sono veramente tanti anni sono 50 anni che questo movimento non viene modificato e con questo non voglio dire che sia un movimento brutto attenzione è un movimento anch'esso lavorato ma certo non è lavorato come un come un omega speedmaster calibro 321 perché il calibro 321 deriva da un da un movimento che arriva prima arriva circa 20 25 anni prima per cui è un calibro che nasce in un'era più felice rispetto al al primero questo è il motivo per il quale è un movimento da un punto di vista diciamo così dell'architettura da un punto di vista così della della bellezza superiore anche al al primero che comunque rimane un grandissimo movimento ecco voglio che questo che questo sia chiaro ecco oggi ci troviamo un po in questa situazione parliamo di prezzi oggi il problema di questo di questo calibro che io vi ho appena vi ho appena fatto l'analisi vi ho appena parlato molto bene vi ho decantato questo questo calibro bellissimo poi arriviamo alle dolenti note è un calibro che esce di listino a 13.400 euro ora naturalmente penso che qui ci saranno degli sconti non so se si potrà trovare forse ecco qua si entra un po in quelle che sono un'immaginazione mia quelle che sono e che è una speculazione mia penso questo calibro questo orologio si possa trovare intorno agli 11.000 euro se e tanti di voi mi hanno mi hanno parlato ho avuto modo insomma di scambiare le mie idee con con tanti appassionati di orologeria e molti di loro mi hanno detto ma guarda che il rolex daytona esce con 11.500 euro di listino in più c'è tutto il discorso dei reseller ma anche considerando il prezzo di listino anche lo si potesse comprare a prezzo di listino questo omega speed master 321 ha un prezzo competitivo perché se siamo in perché omega vuole entrare in quella in quella fascia lì vuole andare a competere a competere con con rolex per cui roll e l'omega speed master con calibro 321 ha un calibro migliore rispetto a quello di rolex migliore perché ve l'ho già spiegato ho già parlato di role del rolex daytona vi ho già parlato del dell'innesto verticale che ha usa e getta con questo non voglio dire che assolutamente che il daytona non sia un movimento non abbia un movimento super affidabile ben fatto sebbene molto industriale ma non è a livello del calibro 321 se parliamo di arte se parliamo di bellezza per cui se ragioniamo in questi termini se ragioniamo in questi termini potremmo anche dire che cioè io sono costretto a dire che in questo mercato che secondo me è pazzo cioè è un mercato fuori completamente dal da quello che è la logica da quello che è veramente un ragionamento sano ecco devo dire che in questo mercato pazzo e fuori da ogni criterio insomma scriteriato questo è un prezzo coerente è un prezzo coerente perché effettivamente si va a posizionare in una si va a posizionare insieme ai loro ai suoi competitori in una posizione corretta non c'è niente da fare io ci ho pensato e ci ho ripensato ma purtroppo purtroppo questo è la verità è che come io già vi ho parlato tutti i grandi gruppi stanno cercando di uscire dalla fascia bassa per cui superare almeno quello che sono i 7500 euro che gli svizzeri individuano come lusso abbiamo visto che è soltanto il 7% degli orologi che vengono fatti in Svizzera che appartengono a questa categoria tutti i gruppi tentano di uscire da questo gruppo dal gruppo diciamo degli orologi non di lusso e entrare nel mondo del lusso questa è l'idea che mi sono fatto io il concorrente principale lo sapete come la penso è lo smartwatch che stiamo vedendo i numeri da paura che sta facendo e saranno sempre di più e sono in crescita per cui la gente sta cercando qualcosa di portare al proprio porso che lo identifichi che una parte unica un qualcosa veramente di esclusivo un qualcosa di arte che rientra in questo mondo per cui i prezzi che a mio avviso sono veramente illogici irrazionali fuori da quello che dovrebbe essere un criterio di spesa corretto e di effettivo valore dell'orologio stesso ma questo è quello che passa in convento ora per chiudere la speculazione mia io prendo do un po' per considerando un po' facendo un riassunto un po' di quello che vi ho detto sia nelle puntate precedenti sia in questa particolare sia in questo particolare vlog le mie conclusioni sono queste allora questo Omega Speedmaster 321 rimarrà con questo prezzo di listino non è una serie limitata per cui qui secondo me avremo un orologio che rimarrà qua negli anni e sarà a questo prezzo non penso che l'attuale Speedmaster con Calbero 1861 rimanga in produzione ancora per tanto attenzione io qua non consiglio nessuno io l'unico consiglio che vi do per quanto riguarda l'acquisto di orologi è comprare un Seco 5 io più di lì non consiglio nulla perché anche spendere 4800 euro di listino per un Omega 1861 cioè siamo comunque sia nel mondo secondo me della fantascienza considerando che nel 2006 appunto costava 2003 di listino ma al detto questo io prendendo atto di quelli che sono i messaggi quelli che sono le informazioni che di cui vi sto parlando ritengo che devo devo dirvi devo dirvi che nonostante che io lo ritenga una cosa fuori di testa probabilmente questo movimento uscirà al 1861 e sarà introdotto il movimento 3861 che è stato fatto l'altra non serie limitata e sarà l'orologio che verrà venduto e la cifra sarà intorno a 7500 euro questa è la mia previsione per cui lo Speedmaster si potrà comprare a 7500 euro con questo movimento 3861 che ha sì il movimento coassiale ha sì la certificazione Metas ma vi ritrovate comunque sia un movimento che ha lo smistamento a camme e leve che secondo me è veramente una barzelletta su un orologio che costa 7500 euro in questo momento nel 2020 queste sono le mie considerazioni fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima puntata come sempre se vi è piaciuto il video mettete un like e se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo vlog ciao a tutti